Ciao a tutti, oggi vi parlo della bilancia Health Keep che ho acquistato su Amazon qualche giorno fa al prezzo di 30€ più o meno, poco meno e sono qui ora a recensirla questa è una bilancia impedenziometrica quindi si collega praticamente al cellulare tramite i bluetooth e tira fuori molte statistiche davvero interessanti ma prima di parlare di questo vorrei fare un commento estetico la bilancia mi piace davvero tanto, come potete vedere esteticamente è molto curata nei dettagli è molto molto sottile e leggera e ha queste due impedenze appunto appoggiando i piedi sopra e vengono calcolate tutte le statistiche dicevo poco fa la bilancia si collega al cellulare tramite il bluetooth dopodiché si scarica questa applicazione Fit Days e tramite questa applicazione nell'esatto momento in cui ci si pesa vengono appunto calcolate tutti questi indici che ora vi mostrerò l'app secondo me è davvero fatta molto bene ed è il punto forte di questa bilancia questa è una misurazione che ho fatto su me stesso e come potete vedere oltre a tirare fuori il peso e l'indice IMC e il grasso corporeo cliccando su più dati vengono fuori davvero tante tante statistiche e soprattutto l'app ci indica se la statistica rientra in un intervallo positivo o negativo sono davvero davvero tante e inoltre tiene comunque traccia dell'andamento del nostro peso nell'ultimo periodo quindi secondo me, ripeto, è il punto forte della bilancia senza contare che possono essere aggiunti più profili quindi magari se si è in una famiglia con più membri ognuno può misurarsi e tirare fuori le proprie statistiche che dire, io penso che per 30€ sia davvero un ottimo acquisto e lo consiglio, lo consiglio vivamente e lo consiglio, lo consiglio, lo consiglio vivamente